Alle promesse regalate telepaticamente Senti, Pina, vuoi spiegare ai telespettatori sotto il garigliano che vuol dire una carne fumo senza tenune una carne fumo? Parliamo di parole leggere, Francesco Nicodemo, come dovresti sapere. Ma qual è la tua posizione sull'antiproibizionismo, legalizzazione? Io penso che anche riprendendo quello che dicevo prima, anche riprendendo la battaglia che noi stiamo facendo e che dobbiamo fare contro le mafie Credo che i tempi siano maturi per un discorso serio rispetto alla legalizzazione delle droghe leggere Si sono già fatti dei passi in avanti, il dibattito mi sembra avanzato, ora però tocca agire di conseguenza E' un mercato che noi dobbiamo sottrarre alle organizzazioni criminali Questa è la posizione peraltro di autorevoli commentatori, penso a Roberto Saviano, penso a quello che sta succedendo anche in giro per il mondo Quindi non è la posizione di pericolosi comunisti o pericolosi estremisti di sinistra Pensiamo a quello che sta succedendo in America, in molti stati Sempre dalla Margherita Vieni Siamo partiti democratici Quindi mi sembra ragionevole e giusto affrontare in maniera seria questo dibattito, soprattutto in maniera serena Perché i tempi sono maturi per farlo